buonasera e siamo qua con per queste tre domande con un ragazzo molto molto giovane posso darti del tu sì 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 senza problemi e volevo chiederti che tipo di scuola frequenti la mia la mia scuola è unica nel suo genere ce ne sono anche simili nel mondo poche epoche però è unica speciale da noi si imparano tante cose diverse dal normale è molto bello perché poi si vive a stretto contatto con i propri compagni con gli insegnanti e speciale ok ora vorrei chiederti qual è il ricordo più brutto che hai della tua giovane vita beh indubbiamente diciamo che è il i primi anni in cui i miei zini trattavano male mi facevano lavorare molto in casa ok allora è l'ultima domanda è che cos'è che ti piace nelle persone una caratteristica che ti piace particolarmente io apprezzo tanto l'amicizia e la voglia di stare insieme agli altri di stare bene l'onore l'onore penso sì il fatto che qualcuno tenga così tanto agli altri e voglia stare bene con loro e faccia di tutto per questo molto bene io ti ringrazio e ti auguro un buon anno scolastico grazie grazie mille